Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in un nuovo video in cui vi voglio parlare del VAR. Allora, il VAR innanzitutto già dall'anno scorso in realtà c'era, tutti sappiamo appunto della sua esistenza, indicativamente di come funziona, ma volevo analizzare a fondo appunto come funziona, perché spesso, secondo me, almeno a me personalmente, mi ha creato dei dubbi, no? E quindi sono andato a studiare un attimino il regolamento per poterne parlare con voi, cioè il regolamento, lo strumento di utilizzo, come viene utilizzato, quando viene utilizzato e tutto quanto, di modo da poterne appunto parlare con voi per farvi avere un'idea un po' più chiara. Innanzitutto c'è da dire una cosa proprio di base, il VAR è lo strumento, la VAR è l'arbitro che è dietro il VAR, quindi colui che appunto avvisa l'eventuale arbitro della partita se c'è da intervenire per un qualche motivo, no? e ci sono cinque cose, secondo me, che sono importantissime da sapere. Allora, la prima cosa, indubbiamente, è quando lo strumento viene utilizzato e quando può entrare in ballo appunto il VAR. Allora, in quattro circostanze, il primo è nel caso dei gol, quindi nel caso di fuorigioco, il caso di non fuorigioco. Poi, quando c'è l'assegnazione di un rigore, quindi per un fallo all'interno dell'area, quindi l'arbitro non convalida un rigore e subentra il VAR che invece convalida il rigore e quindi viene dato il rigore. La terza circostanza è quando praticamente c'è uno scambio di identità, in un caso di cartellino, quindi che ne so, viene ammonito Tizio e invece deve essere ammonito Caio. A quel punto entra il VAR in gioco per poter correggere la decisione dell'arbitro. E la quarta circostante è quella dell'espulsione diretta, quindi quando l'arbitro non fisca l'espulsione, in caso di un brutto fallo, il VAR può intervenire per decidere che quel giocatore deve essere espulso. La seconda cosa importante da sapere è che nessun giocatore può richiedere il VAR. Io l'ho visto spesso nei mondiali, spesso i giocatori, magari anche non sapendo come funzionasse in maniera giusta ed efficace, richiedevano il VAR ogni qual volta ritenevano ci fosse un'espulsione da dare, piuttosto che un rigore, piuttosto che una qualsiasi cosa. E la pena, in caso appunto venisse richiesto all'arbitro il VAR, è quella di essere o ammoniti o addirittura espulsi nei casi peggiori. La terza cosa invece da sapere è che l'arbitro lo indica, lo disegna manualmente, diciamo come se indicasse un televisore, e fino all'anno scorso non c'era la possibilità di vederlo per nessuno se non per l'arbitro, ovviamente parlo allo stadio. Invece da quest'anno è stata fatta una modifica, nel senso che nei megaschermi apparirà ciò che l'arbitro vede, quindi nel minischermo che l'arbitro guarda per prendere la decisione, tutto lo stadio dai megaschermi potrà vedere cosa l'arbitro vede, e quindi in base a cosa prende una certa decisione rispetto a un'altra. La quarta cosa che è secondo me importante sapere è che il VAR aiuta ovviamente per interventi solamente dentro l'area di vigore, quindi un fallo a centrocampo non subentrerà mai il VAR, a meno che non ci sia da buttare fuori qualche giocatore, quindi da espellere qualche giocatore, allora a quel punto sì, però se no può intervenire solamente per falli dentro l'area, quindi nemmeno al limite dell'area, solamente in area di rigore. Mentre invece la quinta ed ultima regola è che il VAR può portare ad un'espulsione, ma non può portare ad un'ammunizione, anche questo è stato visto ai mondiali, non mi ricordo esattamente che partita fosse, non mi ricordo se era la Croazia oppure la Danimarca, insomma una squadra del mondiale, che il giocatore appunto aveva fatto un fallo, aveva tirato una manata a uno, a quel punto il VAR è intervenuto, l'arbitro è andato a guardarlo e l'ha ammonito e io infatti sono rimasto un po' sconvolto e ho detto ma come mai? Comunque in questo caso questa era la quinta cosa che bisogna sapere. Detto questo ragazzi, il video è finito, spero che vi sia interessato, spero che abbiate capito, vi abbia aiutato a capire un pochino di più come funziona, ma in che modo esattamente funziona il VAR e la VAR ovviamente in base alla decisione dell'arbitro e detto questo vi invito a mettere mi piace se volete altri video di questo tipo, vi invito poi a scrivermi nei commenti se conoscevate già queste cose o se appunto il video può avervi aiutato e vi invito a scrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Grazie a tutti i nostri spettatori